Non capisco Tieni Mettila Era del mio bisnonno Sei davvero sexy Trovi che con addosso la giacca del tuo bisnonno io sia sexy? Super sexy Stefan È la camera dei miei genitori Ma che c'è? Che c'è? È vuoto dietro Che cos'è? Un ottimo nascondiglio Ciao! Che c'è? Che c'è? Che c'è questo? Che c'è? Che c'è questa?